amici di motosport.com ciao a tutti siamo al sabato consueto appuntamento con il nostro candido c'è qui ovviamente antonio ghini con noi e andiamo ad affrontare il nostro sabato ciao antonio ciao franco ti sento un po acciaccato hai la tosse il raffreddore di tutto anche un pochettino di covid ma passerà in fretta pensavo che i direttori fossero immuni siamo qui puntuali avanti la nostra rubrica visto che gli amici ci aspettano è giusto rispettare tempi e modi ma senti che c'è stata la serata la serata della della premiazione che ti ha bravissimo esattamente ma guarda un po va bene sono andato al galare della fia e in mezzo a mille fa parte della percentuale dei grandi numeri no esatto esatto oggi noi andiamo tutto sui grandi numeri quindi prendiamola come viene ma io sono andato tengo botta per ora ho fatto quattro vaccinazioni e quindi l'impatto c'è perché c'è una bassissima infettività però però c'è è come una vera forte influenza per ora niente di più quindi bravo allora antonio questa è stata una settimana molto importante perché ha cominciato a mettere dei puntini sulle i sulle tante domande che ci siamo fatti nelle settimane scorse tu che risposta hai trovato ti riferisci al casinò formula 1 con la slot machine la slot machine dei 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 prim si pensai quando ti ritrug e ti rupum si ferma ping pang pang l'altro e devi combinare vengono usi le monetine per ora non ho visto molte monetine scendere però partiamo da lì mi piace questo tema partiamo da lì antonio perché io dico la formula 1 ha l'ansia di dimostrare di essere un qualche cosa che è all'avanguardia in tutto anche nella comunicazione e a me sembra invece che il ragionamento della comunicazione sia veramente antico non capace di prendere le grandi opportunità che invece le situazioni sono in grado di offrire abbiamo visto muovere quattro team principal praticamente in neanche 24 ore sì cinque addirittura perché dobbiamo pensare chi entra chi esce quindi ma lì sul discorso della comunicazione è giusto quello che dici ma è altrettanto vero che quando uno deve dare una notizia che spesso è difficile da controllare ottenere se in forma supponiamo la fia o liberty media o quello che è dicendo allora facciamo un piano sulle comunicazioni è un modo per perdere il controllo della notizia qui è è stata una circostanza devo dire anche un po curiosa di sovrapposizioni di eventi perché da una parte c'era la questa 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 querelle e si binotto no binotto arriva va ser non arriva va ser e a un certo punto la cosa si è chiarita in tempi precedenti poi è stato comunicato formalmente va ser è stato comunicato con una con una un insieme di informazioni ben 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 ragionate quindi si capisce che era tutto ben preparato e concordato mi ha fatto un po ridere che nel comunicato di sauber si dicesse ad essere il miglior risultato quattro anni quattro anni persi sono il sesto posto quest'anno nel che non è stato proprio un anno glorioso quindi una certezza ce l'abbiamo che salirà di posti sicuramente già nel prossimo anno e auguriamo auguriamoci che salga il più possibile vabbè deve salire solo antonio scusami è in ottica alfa romeo va bene ma in ottica ferrari parte da tu è più che one e deve arrivare come diceva enzo ferrari le società bisogna farle il numero dispari inferiore a tre ecco allora qui qui ne ha due dice deve migliorare bene sa dove può andare da una parte sola su di lui beh molto bene io non conoscevo questa sua capacità di talent scout con anti campioni che sono passati attraverso di lui anche con un ruolo nella carriera di hamilton che non avrei immaginata anzi pensavo che fosse stata una strada liscia quella di hamilton invece lui è entrato e per quello che probabilmente ha una condivisione così ampia nel mondo della formula 1 perché comunque è un uomo con cui tutti maleo bene quando ti passano così tanti piloti a grande potenziale tra questi alcuni campioni per le mani è difficile che tu non sia conosciuto che tu non ti relazioni quindi dal punto di vista delle relazioni ritengo che sia una figura ben scelta piacerebbe capire io riflettevo sulle sulle vicende sauber e quelle disavventure di giovinazzi poverino quando sta per fare un risultato poi lo chiamavano i box gli succedeva qualcosa ecco in quel momento con rai conen che era evidentemente il pri la prima guida delegata però il povero giovinazzi ho l'impressione che in certi momenti sia stato vittima di una gerarchia che si tende a non avere nelle squadre a meno che non sia una premessa per future gerarchie in una squadra dove il rosso domina ma se ci saranno vorrà dire che c'è un pilota che merita di avere la priorità rispetto all'altro bene io direi che comunque come tu hai scritto giustamente condivido pienamente i tasselli di cui lui deve occuparsi adesso sono principalmente due o tre al massimo ben ben a fuoco quindi dobbiamo pensare non tanto direi al 2023 quanto al 2024 2025 cioè capire quali saranno le ulteriori evoluzioni perché sempre in questa slot machine dei dei team principal è interessante da osservare la scelta di jack brown che ha preso andrea stella da ingegnere di pista di un pilota passetto passetto l'ha fatto crescere fino a farlo diventare team principal e devo dire siccome lo conosco molto bene ed è un ragazzo delizioso se dovessi trovargli un difetto è che è un ragazzo d'oro è un ragazzo buono ecco speriamo che abbia imparato stando così tanti anni anche all'estero in mezzo alla formula 1 inglese quella feroce a diventare anche un po feroce ed è ed è bello che che abbiamo un team principal in un team così glorioso dal punto di vista del nome e dei risultati meno glorioso dal punto di vista di alcune nefandezze che successero in passato ma che dimentichiamo e quindi in bocca al lupo in bocca al lupo andrea io penso che tu lo conosca lo conosco lo apprezzo gli ho fatto i complimenti con un messaggio al quale mi ha prontamente risposto e quindi lo ringrazio pubblicamente però siccome tu sai a me piace essere abbastanza pungiglione nelle situazioni io ritengo che si metta andrea in una situazione che non è completamente il suo il suo mestiere perché la parte tecnica per me la sa fare molto molto bene ha fatto insieme a side ricrescere una squadra che era mezza morta non dimentichiamoci dove era la mclaren con l'ultimo anno motorizzato onda all'ultimo posto del mondiale costruttori è quarta dopo una stagione non buona e terza era l'anno scorso quindi una esplosione in dubbia di qualità e valore però io se ti devo dare la sensazione è che zac brown è stato preso alla sprovvista dalla partenza di andrea seidel verso il gruppo sauber non il team di formula 1 sauber e poi casomai spieghiamo un po brevemente qual è qual è la differenza ma con la sorpresa ha voluto dimostrare di riuscire a diciamo tappare il buco ma non è corretto nei confronti di una persona brava come come andrea stella quanto il fatto che siccome a zac brown apparire piace l'idea di sgomitando un pochino riuscire di nuovo a conquistare uno spazio nella gestione della squadra che invece sai del abilmente li aveva demarcato e credo che quella sia stata una delle cause principali del rilancio mclaren perché l'americano è sicuramente un uomo di grandissima fantasia ma di poca concretezza quindi bisogna vedere se arriveranno a sposarsi bene la parte tecnica di andrea stella con la fantasia di zac brown speriamo che questa possibile fonte di complessità invece diventi una fonte di opportunità nel senso che si conoscono molto bene lavorano insieme da tanto tempo se andrea riesce a tenere sotto controllo la squadra per quello che è la l'attività eh eh gara per gara e anno per anno auguriamoci e dall'altra parte un un patron che ci mette la faccia e che può prendere in certi momenti certe posizioni e certe eh e certe decisioni può non anche non essere male cioè ehm adesso non fate le le debite proporzioni ma eh nel momento in cui eh in Ferrari c'erano Todd e e Montezemolo eh le uscite di Montezemolo in certi momenti erano utili a portare l'attenzione da qualcosa di specificamente racing in qualcosa di più spostato ampiamente su quello che è il ruolo della formula uno ecco lì dipenderà molto da zac brown io ho avuto a che fare con lui una sola volta quando avevo organizzato in Lamborghini la la mostra su Ayrton Senna e eh gli avevo chiesto non solo la McLaren che Senna come motore Lamborghini che Senna aveva aveva utilizzato ma anche la sua Lotus che era la Lotus con la quale Senna aveva eh guidato e lui era stato estremamente disponibile ha mandato il camion tutto ha fatto cioè eh l'ho trovato un uomo appassionato e d'altra parte credo che abbia anche una bella collezione di automobili perché ne ha numerose anche se qualcuna l'ha venduta per cui poi eh in in un mondo di tensioni continue il rischio di corti circuiti c'è sempre la cosa molto positiva che è corretto mettere in evidenza a differenza di altri eh arrivisti che eh ogni volta facevano fuori eh colui che avevano eh a livello superiore eh Andrea ci sta ci sta arrivando e ci è arrivato per merito nel senso che eh è stato chiamato a ruolo non ha ambito a ruolo e questa è una eh differenza secondo me sostanziale per cui all'interno del team riesci a eh unire un gruppo la grande rivoluzione che ha fatto è certamente una la McLaren lavorava con un sistema matrice a blocchi dove praticamente un gruppo non si parlava con quell'altro e poi doveva venire miracolosamente insieme eh una macchina addirittura c'era un gruppo di tecnici che disegnava l'anteriore e un gruppo di tecnici che disegnava il posteriore e litigavano dove finiva eh l'influenza di uno e di quell'altro esattamente lo l'ho visto anche in altri posti e l'ho visto anche in altri posti questo per dirti l'approccio per cui eh non c'era da domandarsi come mai eh quella squadra non potesse essere in incente lui ha spazzato via tutta questa roba e insieme a Seidel aveva costruito una squadra diciamo verticistica con dei ruoli molto ben definiti e io penso che in Formula 1 non ci sia altro modo per andare a vincere se andiamo a guardare le squadre che stanno dominando la Red Bull se vogliamo seguire la Mercedes e poi anche la Ferrari i riferimenti sono sono molto molto chiari però hai detto una cosa molto interessante e cioè chi non è arrivista e un giorno viene premiato perché io credo di poter dire non lo so glielo chiederò eh se lui se l'aspettava o no per me per lui è stata una sorpresa sicuramente una grandissima sorpresa e e questo per gli altri che gli sono attorno eh diventa un motivo per solidarizzare con lui perché li rappresenta è stato essendo stato delegato e non avendo invece voluto aggrapparsi a un posto e prenderselo con le unghie e con i denti per cui può essere buono dal punto di vista della dell'atmosfera di squadra e poi in bocca al lupo Andrea la Formula 1 questa qui o è chi lavora lì lo sa che eh i lupi ci sono davvero e non solo uno ehm poi ecco non ho capito capito ecco dove dove andrà parole adesso beh sai così facciamo il weekend senza gare dobbiamo fare un po di ecco questa partenza con le T perché è andato via lui e il direttore tecnico per cui si è svuotata la squadra sì eh diciamo che hanno finito il lavoro quindi hanno fatto la macchina lasciano di fatto la macchina buona o cattiva che sia e se ne vanno eh le chiacchiere di box dicono che essendo un uomo di natura Volkswagen eh è nato in Porsche eh negli anni Ottanta su un progetto di una macchina GT poi si è evoluto e è arrivato a gestire la squadra Volkswagen che ha dominato il mondiale rally dando un'impronta nuova alle corse su strada eh poi ha avuto anche delle esperienze in Formula 1 dove è sempre stato stimato come manager capace allora io se devo guardare l'uscita dalla Williams mi dà alcune indicazioni primo se la Porsche sta pensando di andare in Formula 1 bravo non va non va in Williams perché se no sarebbe rimasto quindi primo messaggio la squadra di Grow deve cercare un altro partner e c'è chi parla che potrebbe essere eh Andretti il gruppo Andretti eh che in tutti i modi sta bregando per trovare un buco nel sistema Formula 1 e riuscire a entrare però eh se vogliamo allora rimanere aderenti al al gioco Volkswagen verrebbe da dire se Andreas Seidel va alla al gruppo Sauber quindi quello che gestisce anche la Formula 1 ma la galleria del vento alla technology l'engineering cioè tutto quello che è di appresso c'è di legato beh allora c'è lo spazio per un team principal e allora potrebbe anche non stupirmi il fatto che capito eh possa andare a a la Sauber a prendere il posto lasciato libero da da questo è un'opportunità la seconda domanda è ma Bloom il grande capo del gruppo Volkswagen eh la Porsche la vuole portare in Formula 1 sì o no perché allora capito è molto probabile che possa rimanere a cuccia in attesa facendo un po' di gardening e poi appaia laddove il marchio Porsche dovrebbe approdare in Formula 1 non con la Red Bull ecco tu sai hai affrontato un tema che ho anch'io qui nel gozzo e cioè mi sembra strano è vero che Oliver Bloom ha adesso essendo diventato il capo assoluto del gruppo può dire ho già l'Audi il mio giocattolo ce l'ho già mentre prima avrebbe avuto il giocattolo suo quando era la Porsche però io mi domando aspetta aspetta ti interrompo perché riprendo un concetto che a te è molto caro l'Audi arriva in Formula 1 per promuovere quel 50 per cento della power unit che è elettrica lo hanno detto da subito e l'hanno messo eh a grandi lettere quando si sono presentati durante l'estate eh io sono anche dell'idea che tutta l'attività la Dakar che viene fatta adesso con l'estremizzazione dei sistemi elettronici per il motore elettrico siano finalizzati anche al al 26 della Formula 1 per cui stiano mettendo a punto situazioni di capacità di gestire la la motricità sulla sabbia la duna salire scendere avere motricità sempre e trovare sistemi in questo loro sono non bravi ma straordinari però eh è anche vero che la Porsche e tu me l'hai insegnato in questa rubrica il grande lavoro l'ha fatto sulle fuel quindi il mondo Volkswagen starebbe in questo momento rinunciando a quel 50 per cento importante di rilancio eh di quella che sarà la mobilità sostenibile al di là del calcio in bocca preso da veramente in modo inelegante dagli uomini Red Bull e da vedere che ci sia la volontà di uscire in modo definitivo dalla Formula 1 per questa diversa collocazione all'interno del Circus tu come l'hai? Beh è un bel ragionamento quello che fai io direi condivido la tua impalcatura direi che Audi sta eh facendo quello che tu hai detto per una ragione oggettiva quindi tecnologica giusta ma anche perché deve valorizzare al massimo l'elettrico dopo che ha parlato di elettrico come futuro certo e nel momento in cui prendi coscienza che l'elettrico sarà un futuro certo ma complementariamente a motori che comunque utilizzeranno ancora un combustibile diverso un combustibile non fossile ma diverso che è l'e-fuel tale sarà la Formula 1 eh puoi arrivare a giustificare questo passo indietro verso i motori coi pistonazzi che vanno su e giù e con tutti gli ingranaggi e con tutto quello che c'è invece dei motorini elettrici sulle ruote e arrivarci continuando a sventolare la bandiera dell'elettrico quindi se la parte del tuo ragionamento è ineccepibile dal punto di vista delle opportunità di sviluppare l'elettrico lo è anche dal punto di vista di comunicare ancora in linguaggio di elettrico pur avendo di fatto in parte abdicato per quanto riguarda Porsche invece io direi se tu dovessi litigare con uno che si chiama Abele Bianchi o con uno che si chiama Azzo Spadoni con quale dei due litigresti certamente con Abele Bianchi che deve essere uno gentile carino bravo io non so se questo minzlaff io quando mia madre diceva sei una bestia bam mi dava degli schiaffi mi sembra un uno che in Red Bull qualche schiaffo potrebbe darlo cacofonico allo schiaffo bravo ma mi sembra più un Azzo Spadoni lui allora è vero che c'è la troica di di Horner Newy e Marco molto solido eccetera è vero che è stato annunciato tutto eccetera eccetera poi ne parliamo un'altra volta ma quale Red Bull immaginiamo nel 2030 cosa sarà la Red Bull nel 2030 perché è questo al punto se tu fossi minzlaff penseresti alla Red Bull del 2030 non a quella 2023 allora lì chissà boh non so però anche io credo che ci sono temi interessanti perché la Honda ha annunciato che si è iscritta come motorista alle regole 2026 quindi eh il puntino i giapponesi stavolta lo mettono e dicono facciamo che ci siamo eh per esserci da essere HRC campioni del mondo nel 2022 come quest'anno hanno deciso beh eh abbiniamo il nostro nome al al motore powertrain eh eh della Red Bull visto che lo facciamo noi glielo diamo noi quindi riappare il nome Honda nel 23 in modo ufficiale e questo è di nuovo uno strano mondo no delle porte girevoli di chi ha deciso eh nel 2020 di ritirarsi e nel 2022 è già qui che riappare classico dei giapponesi nessuna novità però è è strano come avvenga il movimento ma è ancora più strano fammi dire ti interrompo un attimo qui si vede la differenza tra i tedeschi che fanno tutto un ragionamento per non sventirsi con l'elettrico ma tornare a occuparsi di endotermico mentre i giapponesi prima escono dicendo ah solo elettrico poi si riprecipitano dentro nello spazio di due anni diciamo che dal punto di vista dell'approccio tedesco sono stati certamente più strutturati nel ragionamento i giapponesi hanno avuto uno slancio di emotività che è stato anche arricchito dal fatto di cominciare a vedere che i loro motori sono quelli campioni del mondo e vanno bene e non si rompono perché quest'anno pensiamoci quanto non si è visto un fumo in un'automobile eh spinta da un motore onda mi pare neanche nell'alfa taurio forse sì ma comunque se fosse successo facciamo finta che non sia successo diciamo così. Riprendendo il filo eh è interessante invece notare come ci siano chiacchiere molto crescenti e forti che il costruttore interessato alla Red Bull come motorista quindi Red Bull Power Trains sarebbe la Ford quindi il famoso marchio americano che con un'operazione di marketing clamorosa che si potrebbe scambiare con quella che ha fatto l'Alfa Romeo con la Sauber eh potrebbe rinominare il motore pagare eh il fatto che si rinomini il motore apparirebbe un marchio importante in un campionato che dal prossimo anno offre ben tre opportunità eh americane eh con tre gare in calendario ma la Ford lo dobbiamo considerare un costruttore globale a tutti gli effetti quindi la possibilità di farsi vedere è certamente molto molto larga e un rappresentante della Ford a cui è stata fatta la domanda ha detto non commentiamo le speculazioni di solito quando è una palla atomica vengono con il no secco e non c'è discussione non commentiamo vale il discorso della Ferrari al primo colpo su su Vasseur quando dissero non commentiamo e la risposta l'abbiamo poi avuta quindi eh è una cosa molto interessante da seguire perché in un momento in cui sembrava che eh la Formula 1 perdesse un costruttore con l'uscita della Honda eh i movimenti potrebbero portare a una moltiplicazione di costruttori al punto poi da non avere eh eventualmente nemmeno dei team clienti che una squadra per quell'altra eh potrebbero diventare tutti tutti ufficiali io quella la vedo un'operazione un po' a rischio per la Formula 1 perché la logica di chi vince che è uno e tutti gli altri perdono nel tempo eh fa passare la voglia e quindi eh sì vanno poi trovate le chiavi giuste però devo dire Stefano se riesce a portare a termine questa strategia che un po' aveva lasciato intendere se ti ricordi in una puntata dell'estate parlammo di quello che sembrava un sogno una squadra per un motore un motore ufficiale dove tutti sono ufficiali bene eh il cammino sembra stiamo andando eh stiamo andando perché poi alla chiamata mancano ancora vogliamo dirlo la Toyota che è nel 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 WEC piuttosto che i coreani che fanno altro in questo momento Kia o Hyundai poi bene o male il mondo in quanto tale eh è abbastanza rappresentato aspetteremo anche un cinese che per il momento non c'è però eh c'è una grande attenzione loro sono vittime del covid quindi non fin quando ci sarà covid non ci sarà quindi anche tu sei cinese senti no ma però per la Ford se noi pensiamo alla storia Ford pensa al motore Cosworth era nato in Inquilterra da Duckworth e come si chiamava Costain Costain e Duckworth e poi è diventato Ford 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 bene eh la F la GT 40 vincitrice alemane ricordiamo il film recente nata dalla Lola cioè sono andati alla Lola hanno preso l'esperienza della Lola hanno fatto per cui non mi sembra che abbiano molto pudore in questo senso e poi la potenza di un marchio di questo tipo è tale che poi metti il tuo marchio lì e la gente guarda quello lì e Ford la cosa un po' strana è immaginare che il Red Bull faccia il motore vincente per un competitor e usi un motore di un altro però c'è anche da noi quindi eh infatti siccome i costi sono elevati il modo esatto siccome c'è schiaffone eh devono far quadrare i soldi min slaff da oggi è schiaffone per gli amici schiaffone senti avevi invece accennato ma mi interessa saperlo perché non lo so questa differenza che tu stai vedendo in una sauber Audi divisa e non come appariva a me votata a diventare una entità unica quindi l'idea che Seidel possa essere solo eh eh da una parte e e e e e un altro team principal dall'altra mi sembra più un rischio conflittuale che un'opportunità di efficienza è vero hai ragione però se guardi eh la prospettiva in un'ottica 26 quella del debutto dell'Audi col suo motore è indiscutibile sarà il primo motore dell'era ibrida che nasce direttamente in Germania fatto in Germania visto che il Mercedes è tutto inglese fatto a Bricksward e loro hanno già questo orgoglio nel marcare puntualmente questa situazione in Ville ce l'hanno molto vicina quindi ci sono situazioni eh che indubbiamente spingono in quello che tu eh guardi con attenzione in avanti però nel presente eh non dimentichiamoci c'è ancora un anno di gestione Alfa Romeo allora che un uomo Audi vada a gestire la squadra Alfa Romeo credo che sia anche da un punto di vista dell'immagine non particolarmente bello per tutto il mondo Stellantis e quindi il fatto che la figura del team principal venga cioè la squadra Formula 1 abbia ancora un'anima diciamo eh a tutti gli effetti Alfa Romeo mi sembra anche giusto che l'ambito grosso della holding eh cominci a delinearsi in qualcosa che nel tempo gradualmente vedremo trasformarsi quando Finn Rausin comincerà a vendere la maggioranza delle delle quote della Sauber alla alla Audi beh allora lì vedremo cambiare le cose e probabilmente lo stesso lo stesso Seidel assumerà poi un ruolo diverso anche all'interno della squadra di Formula 1 Sì certo anche perché stiamo parlando di cose che succederanno nel 2026 siamo ancora nel 2022 per qualche giorno ma in effetti se la sono presa con un bel anticipo possiamo essere certi di una cosa che arriveranno impreparati eh preparati se arrivassero impreparati sarebbe davvero sorprendente con un anticipo così però sai cosa mi fa ridere eh prendo eh buono l'aggancio che mi hai dato eh che molti colleghi eh hanno detto e scritto che eh Carlo Sainz se sentirà odore di bruciato scapperà alla Sauber per il 26 e e nei tre anni di mezzo cosa fa? Un ucinetto non lo so a volte si sparano delle cose che sono incredibili va beh esatto senti è e binotto beh pensa che opportunità potrebbe avere binotto a parte una soluzione che sembra abbastanza logica alla quale potremmo accennare dopo ma se effettivamente eh Andretti arrivasse alla Williams e prendesse binotto per far risorgere risorgere un nome straordinario come quello di Williams potrebbe essere una sfida bellissima e sarebbe win-win per tutti eh però così sogni battute natalizie possiamo fare il pacchetto regalo poi vediamo cosa c'è dentro forse niente sembra che le spari ma eh quella di binotto eh che è stato contattato dalla Mercedes non era una boutade eh una figura italiana motorista che è in Mercedes uno squilo l'aveva fatto e Toto Wolf ha subito siccome è volpe eh ha tirato subito su eh gli allarmi e ha fatto il lupo eh dicendo no signori qui noi non ci siamo mai annusati quindi eh caro binotto alla larga e ha segnato troppi cocci troppi cocci forse c'è una squadra eh che che parla italiano e non solo francese che potrebbe avere utilità ad avere un binotto dentro che è l'Alpin certamente sì pensando pensando a cosa sono riusciti a fare eh in questa stagione di 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 maldestraggine perché è stata una gestione maldestra quello che è capitato in una squadra che peraltro ha un'ottima macchina ha ancora un motore un po' un po' bisognoso di di trovare eh la messa a punto finale ma non certo lontano dagli altri non a caso è arrivato sono arrivati quarti nel mondiale e non quinti o sesti e quindi beh lì hanno solo un pessimo team principal che si è permesso da Pinocchione qual è di fare anche dell'ironia su quanti team principal gli siano cambiati intorno chissà se l'ironia è un fenomeno eh cioè bisognerebbe andarla a cercare perché vediamo poi eh la sua posizione quanto sarà destinata a rimanere così salda visto che va a fare dell'ironia sugli altri lì Mattia potrebbe avere uno spazio però ti apro un'altra opportunità eh va via Ross Brown da Formula One quindi da Liberty Media e eh Ross Brown è un ex ferrarista eh Stefano Domenicali è un ex ferrarista Mattia Binotto ha un'altissima competenza nella conoscenza dei problemi della Formula Uno e potrebbe diventare il direttore tecnico di Liberty eh non so cosa dirà di nuovo Toto Wolf perché quando Toto Wolf voleva lasciare la Mercedes per andare al vertice di Liberty eh si trovò la strada bloccata proprio da Binotto eh e dalla Ferrari adesso sarà da vedere se eventualmente ci sarà un effetto reverso sulla posizione inversa ecco i cocci di cui ha parlato Toto Wolf ce ne sono di cocci sul cammino ci sono troppi cocci tra noi ha detto se vi ricordo esattamente così ha parlato di cocci senti ma a proposito di 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 Ross Brown ma ehm con adesso è venuto continua a dire che anche i team ultimi devono andare sul podio cioè ma sembra uno che non non sa cosa sono le gare cioè non allora io gli darei un suggerimento a questo punto invece di continuare a insistere se non c'è una gerarchia non c'è neanche il piacere di vedere che uno cresce l'altro scende no vanno tutti uguali allora facciamo il monomarca che non ha senso ne abbiamo già parlato ma perché invece non lancia l'idea visto che c'è questa epopea adesso dei piloti di riserva ehm mick schumacher in mercedes eh Ricciardo in in ehm e in red bull e chissà quanti altri di fare la gheretta coi piloti di riserva pensa che meraviglia la gheretta mettiamo i piloti di riserva uno dei due uno sta a piedi e l'altro quello che decidono le squadre come si faceva con la formula due un tempo uno dei due lo sappiamo già tutti quelli che sono davanti fra i due col cacchio che lasciano la macchina esatto che la possa a caso mai eh sbattere per un problema la domenica però ecco se potrebbe esercitarsi su queste cose più eh così più creative perché io veramente quando leggo che tutte le macchine tutti devono poter andare eh tutti devono poter vincere la trovo per la mia centenaria esperienza di di corse non si è mai visto allora non cerchiamo di fare andare l'acqua verso l'alto l'acqua va giù non è va su e allora ma non ci riescono nemmeno con la formula E dove le macchine sono tutte uguali dove praticamente eh le gomme sono identiche eh e vediamo poi grandissime differenze assolutamente su questo hai perfettamente ragione ma è un suo pallino che si porta dietro dietro da tempo e lui si è dimenticato che eh questa parità lui regolarmente l'ha fatta saltare con la sua fantasia sì il buon famoso buco ma non solo il buco eh esatto cioè oltre al doppio fondo di situazioni in cui abbiamo apprezzato il saper leggere le regole e diciamola così eh ha poi fatto la differenza e questo vorrebbe dire che tutti gli altri dovrebbero far finta di niente leggere le regole per come sono state scritte da da eh tombasis e non non interpretarle vorrebbe dire che Adrian Newey andrebbe a fare subito le macchine del WEC o altra roba missili per eh certo certo è la famosa macchina eh di tombasis che nessuno ha mai visto se non quando è stata presentata perché poi nessuno l'ha fatta con il sarà così no tutte diverse bello ma come è giusto che sia come è giusto che sia non so a che punto siamo però ti lascio una cosa io volevo poi fare una riflessione prima di chiudere di di tu bene no no io io eh di cose di cose importanti no mi mi fa piacere ricordare per affetto eh il la 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 Patrick També che che ho conosciuto molto bene quando ero in Renault che che ha vinto tra l'altro con la Ferrari ha fatto quattro pole position nell'83 eh che è stato sfortunato perché quell'anno avrebbe potuto arrivare ben più in alto se non avesse avuto un problema di salute e quindi è andato via troppo presto l'ultima volta che l'ho incontrato ero ancora in Ferrari e avevo visto che la sua salute era compromessa non era più lui eh è stato un pilota elegante corretto una persona molto perbene molto bravo quindi lo ricordo con affetto vedi si legano i fili abbiamo un legame mentale caro Antonio perché la mia sollecitazione era che eh mi ha colpito un'immagine delle esecue di Patrick eh sulla tomba c'era un'enorme bandiera gialla con un cavallino rampante e questo è un segno perché mi fa venire i brividi pensando che Niki Lauda ha espressamente voluto andarsene con la tuta del cavallino adosso e eh ci sono questi campioni che possono avere poi declinazioni molto diverse Lauda ha vinto eh otto titoli mondiali con la Mercedes legando il il momento più lungo della formula 1 a un qualcosa di straordinario come manager eppure eh il cuore batte a Maranello e questa è una cosa che ci tenevo a sottolinearlo perché poi eh quando è il momento importante vengono fuori le le situazioni eh che vengono da dentro i sentimenti che sono importanti e questo vale per Niki ed è valso anche per Patrick siccome non l'ho visto scritto in giro ci tenevo a dirlo perché è un valore anche questo Sì e questo conferma quello che tante volte diciamo e cioè di questo speciale ingrediente di emozione che dà la Ferrari grazie non solo alla genialità di Ferrari di Enzo di aver fatto del rosso il suo colore che è comunque un rosso è un colore che ti infiamma ma del fatto che comunque alla Ferrari c'è sempre un aspetto umano che non deve non può essere perduto lo abbiamo un po' perso in questo in questi ultimi anni adesso arriva un nuovo team principal speriamo che si ricordino di questa cosa per chiudere volevo se eh se posso dirti volevo eh ringraziare con l'affetto con affetto eh quella Milena Pedriali che eh ha scritto tra i tanti che ci scrivono dicendo che dovrei insegnare ai giovani e e motivare e raccontare allora eh è vero non c'è niente di più bello che dell'insegnamento mi capita di tenere lezioni e sono sempre eh felice alla fine quando vedo che lo sforzo che si fa per comunicare ha una reazione positiva e le persone rimangono coinvolte e la verità vera è che quello che stiamo facendo con queste chiacchierate è che quello che potremmo fare in altri modi e in altre occasioni è proprio il 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 sistema per interrompere la comunicazione rapida e superficiale con delle riflessioni dei pensieri che sono invece dei pensieri un po' più ampi un po' più rilassati un po' più a volte anche coraggiosi o forse insolenti ma ma mai casuali e comunque sempre utili per un dibattito che sia un dibattito che si basa sulla passione che è quella che ci tiene qui tutti i sabati malati o non malati estate o inverno ferro agosto natale anzi sabato prossimo dovremo vedere cosa mangeranno i team nel nel cenone di natale eh dovremmo fare qualche non cominciare a spoilerare va bene va bene ciao ciao amici di motosport.com grazie per averci seguito fino in fondo come sempre eh grazie per aver supportato il nostro candido eh rispondeteci qui sotto fateci sapere che cosa ne pensate di argomenti ne abbiamo toccati veramente tanti eh cliccate la campanella così riuscirete ad avere anche le le informazioni sui prossimi video di motosport.com con questo veramente abbiamo finito abbiamo spalato caro Antonio a sabato prossimo ciao ciao ciao